Allora, mi sto annoiando! Facciamolo finito! Nelta, però abbastanza! E noi siamo supervi... Che cosa c'è? Daffy, che tu sei il secondo dopo maggiungo ad avermi spinto fino a tanti. Perché non cominciamo a combattere? Così ti renderai conto della differenza. Oh, tremo già dalla paura. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Non dirmi che speravi sul serio di cavartola con così poco